benvenuti nello splendido rifugio degli alpini di campei c'è anche un bivacco invernale o quando è chiuso il il rifugio che adesso vi mostreremo comprende un tavolone con un fuoco una stufa nel primo locale vedete fuoco stufa dei posti dove mettere le cose per chi resta qua magari e poi ci sono questi due letti castello con la possibilità di aggiungere un quinto letto le sedie quello che può servire per fare un giaciglio di emergenza durante l'inverno o durante quando il rifugio è chiuso ma in zona di temporale questo è quello che naturalmente qua vicino poi sono le escursioni che potete trovare vicino venendo da campiglione venendo al passo dello spino venendo dal pizzoccolo venendo da gardone venendo da navazzo venendo da cicino venendo dallo zingla venendo da campei de mes e per arrivare al bellissimo rifugio consigliato di venire quando aperto però ci si può spongere anche da qui se in un'ora e mezza si arriva anche al rifugio dello spino e un posto spettacolare che vi aspetta questi sono i numeri del montesuello ana per contattare